questa è l'ora solare buon pomeriggio a tutti buon pomeriggio a tutti e bentornati in nostra compagnia abbiamo un esordio per questa puntata particolarmente felice si cerca sempre di capire come fare a presentare una personalità e una persona come lei e io allora dico questo il giorno in cui è nata il mondo il mondo intero sorrideva simona marchini e che attrice e ci vorrebbe tutta la ola dello stadio attrice conduttrice ola regista ola e ambasciatore dell'unicef ola tutto lo stadio in piedi perché questa signora fa delle cose veramente speciali poi ho pensato quando sei nata il mondo il mondo sorrideva mia madre un po meno perché mi raccontò poverina che io insomma non venivo fuori allora si partoriva in casa con l'ostetrica e mamma dice l'ostetrica si era così impaurita che tirò fuori un'immaginetta la madonna accesa una candela diceva madonna mia ho mai fatto mai capita niente proprio oggi mia madre no poi alla fine venni fuori un poco lunga con la testa allungata e mio nonno che era spietato il papà di mio padre no disse bruttina sta bambina invece poi diventare uno splendore assolutamente questo già vi inquadra il quadro prendete il chiodo e attaccate dal muro allora questo papà questo papà com'è importante papà si alvaro e lo vediamo qua sorridente con un grandissimo coreografo russo igor moiseyev è stato una cosa straordinaria mio padre finanziò la prima primo arrivo a roma di questa compagnia mitica nel 61 che è la compagnia di danza popolare russa che è una cosa eccezionale e diventammo grandi amici io ero incantata avevo 18 anni stavo così in adorazione perché sono straordinari e pensa poi per tante vicissitudini entrammo amici poi ci siamo persi quando io avevo il festival di todi i misi in testa di farli tornare in italia dopo 25 anni che mancavano scuola mia vita è piena di cose abbastanza straordinarie devo dire allora lo rintracciai lo aveva già 96 anni ci siamo commossi al telefono mi ha aiutato in tutti i modi e ho riportato in italia dopo 25 anni questa compagnia eccezionale che ha inaugurato la cavea dell'auditorium di roma con 3.000 persone voglio dirlo perché questo sei tu grande amore per la cultura grande amore per oltretutto promemoria naturale di quello che è di bello ti è accaduto da ragazzina tu poi hai saputo riportarlo in vita dopo da ragazza solo poco poco più grande appena appena si è uscita appena veramente si è riuscita a fare tutto questo ma simona marchini e qui metto la marcia del bravo presentatore come direbbe nino frassica che con renzo arbore e con simona marchini usi hanno fatto cose belle all'età di quattro anni grazie a papà alvaro esordisce a teatro con una parte no della serie come andò quella storia vogliamo saperla vogliamo saperla questa mia figlia questa è tua figlia arriviamo anche a tua figlia ma tu avevi quattro anni teatro era a monteverde de roma si che succede perché mio padre che era chiaramente militava per la cultura al popolo da sempre da quando era nato allora e mai lo ringrazieremo abbastanza recitava anche no perché in realtà avrebbe voluto far l'attore poi i doveri familiari va bene e allora lui mise su un teatrino molto così insomma dilettantesco però molto amatoriale a monteverde vecchio dove abitavamo siccome ero una bambina post bellica io partecipavo a tutto i miei genitori e papà mi leggeva tutto mi insegnava a memoria sapevo 13 poesie di trilussa che torneranno tanto poi cantava un bel di vedremo cioè un mostriciattolo così allora una sera non gli stava sul fondale a loro poveretti facevano morte un commesso viaggiatore di arthur miller papà protagonista naturalmente va bene e io stavo là dietro e guardavo tutta curiosa con i ciuffetti così a un certo punto il pubblico rumoreggiava un po perché non iniziava questo spettacolo ma papà mi dice di una poesia vai io nella mia incoscienza figure esco fuori tutti fanno oddio perché la bambina di natale ho detto vi dico una poesia tutti di trilussa tutti di trilussa trilussa tutto polino di quattro anni e io recitai qual'era qual'era la poesia tra il vecchio porco che va che va in città vediamo se me la ricordo guarda non garantisco l'inizio due righe il vecchio porco disse a certe vacche la voglio fa finita di fa sta porca vita e voglio metter fracche scarpe con l'occhio un fiore un vetro all'occhio annammene in città e vabbè lei e lei e lei e la martini va bene d'accordo io volevo emozionarmi che volete cosa volete che vi dica allora noi abbiamo avuto come dire è una generalmente viene prima la mamma e poi viene la figlia oppure vengono la mamma e la figlia insieme non siamo riuscite a farle a farle camminare uno accanto all'altra ma guardate un po roberta che cosa ci diceva non poco tempo fa della mamma l'ora solare citiamo noi stessi com'essimo una marchini mamma mi faccia fare l'impicciona il mio mestiere oggi più che mai allora intanto non è diventata quello che è per un po quindi quando lei ha iniziato a fare questo tipo di lavoro io già ero abbastanza grande e me la volevo levare di torno quindi fui felicissima io proprio perché avevo 16 17 anni sì e iniziò per caso e quando io vedi poi che la l'iniziavano a chiamare andava io stra felice quindi però anche prima lei recitava sempre anche dentro casa anche perché c'è un nonno e andiamo ancora più indietro cioè questo nonno che lei racconta come come quelle persone meravigliose che esistono sempre positivo beh mio nonno sì nonostante avesse passato la guerra la fame la povertà primo aveva avuto la grande intelligenza di tirarsi su e anche bene il secondo era sempre allegro e io ricordo quando ero piccola che aveva visite da persone dai 30 anni agli 80 anche quando era un po più anziano poi è morto un po presto purtroppo però tutti puri miei amici volevano andiamo da tuo nonno perché lui giocava scopetta faceva le cose la sera raccontava cose quindi mia madre faceva come lui allora bella tua figlia ed è qui ti vediamo ecco qua proprio c'è tutto il gruppo no nonno mamma simona e la piccola robertina che ha sei anni insomma questo papà ha è stato molto importante per tutti in famiglia per tutta la famiglia non solo per noi sai che quando è morto mio padre purtroppo a 69 anni presto perché era ancora pieno di entusiasmi di passioni io ho incontrato un'infinità di persone che mi hanno ringraziato figurati per il bene che aveva fatto a tutti mio padre no mi fa mi fa commozione perché mia sorella era stata piccolina cardiopatica guarita perfettamente eccetera lui appena sentiva ad un bambino che aveva bisogno mandava i soldi anonimi perché non voleva o qualcuno che lo riusciva a sapere poi lo ringraziava ma lui non voleva capito non vuole essere ringraziato sì assolutamente fai bene scordate esatto ma tanta gente pensa perfino giuliano montaldo che è un grande regista una persona meravigliosa e che stasera compie gli anni fra l'altro comunque giuliano mi incontrò in banca che era morto mio padre con gli occhioni azzurri pieni di lacrime mi ha detto lo sai che io devo al tuo padre se sono rimasto a rome ho lavorato a mio padre sì perché ero giovanissimo dovevo partecipare a un bando a un concorso di un lungometraggio non avevo i soldi per produrlo un amico mi portò da papà papà era il rifugio sempre di tutti e allora gli prestò questi soldi lui vinse il premio quindi ritornò da papà con i soldi e papà disse ma che e non ne vuoi fare un altro lui rimase a roma ebbe la possibilità con quel piccolo inizio comunque di rimanere e continuare una carriera meravigliosa chiedetevi poi perché simona marchini faccia del bene con generosità ovunque vada nel mondo la frutta casca attorno all'albero lasciate la finestra aperta ci vediamo tra un attimo simona marchini ricordando il papà un uomo buono generoso generoso silenzioso nella sua generosità mi diceva un attimo fa non voglio mica fare un vanto familiare non è un vanto familiare però dicevi giustamente che raccontare il bene fa bene sì in questo senso sono abbastanza fiera della mia storia della mia famiglia tanto che tutti mi dicono scrivi scrivi perché no ma non per niente perché gli esempi positivi gli esempi di coraggio di generosità di disponibilità all'altro di valori etici che sono sempre più desueti forse aiutano gli altri a capire che si può fare si deve e si deve fare per noi è stato naturale tutto questo cioè siamo cresciute anche fin troppo ingenue io e mia sorella perché sempre con questo impulso e spinta alla generosità rispetto dell'altro che erano valori sacrosanti a casa mia non si poteva fare un pettegolezzo mio padre ci fulminava no per dirti che sono stati valori incrollabili nella nostra vita e lui diceva sempre ricordatevi siate sempre creditori e mai debitori cioè date certo non vi mettete in difetto verso gli altri perché vi fate del male e questi sono valori tu hai detto desueti con parola la tua terminologia è che appartiene si sono valori sui quali bisogna bisogna ritornare ora siate creditori noi siamo tutti debitori all'arte di simona marchini e non solo all'arte ribadisco perché sul punto sono serissima la conosco molto bene la insegue seguo da tempo perché all'arte perché tu a un certo punto diventi attrice attrice cioè quella ragazzina vi dico una poesia e poi diventa tutto vero e dobbiamo ringraziare don lurio si e romolo siena assolutamente nomi per i quali ci dovremmo alzare tutti quanti in piedi veramente perché io lo racconto sempre perché la gratitudine un altro sentimento importante che ti hanno insegnato a casa tua ecco quindi sempre per cui io don lurio l'ho considerato veramente un angelo nella mia vita perché ero disperatissima una crisi coniugale moltamente seria dolorosissima andai a cortina con un'amica mi trascinò coi ragazzini siamo andate e io ero una casalinga assoluta perché mi ero dedicata anima e corpo a mia figlia e per quello mi ero risposata e volevo i figli l'ho persi quattro volte vabbè quindi ero molto provata e insomma successa una cosa con mio marito molto molto penosa quindi ho passato un momento terribile allora questa amica mi portò via e io ero una casalinga impeccabile cucinavo stiravo facevo sapevo fare tutto perché quando assumo il compitino lo fai bene e lavoravo a maglia moltissimo ricamavo facevo le bambole della scuola steineriana avevo imparato e però grazie a dio il nostro spirito anche un po umbro così di riderci addosso mi aveva portato a minimizzare sui miei due matrimoni cioè a cogliere l'aspetto anche un po folcloristico uno calabreso non napoletano e e don lurio mi sentiva raccontare queste vicende si divertì tanto non mi disse niente mi segnalò romolo siena che cercava un'attrice inedita quando mi chiamava domani sera signora c'è il provino tu che provino quando eccolo qua romolo siena caro si è stato fantastico straordinario e don lurio mi è venuto a prendere a casa di peso mi ha portato di deve fare il tuo talento ho detto ma io non ho mai fatto niente eh meno male che non avevi mai fatto niente ma la telefonista per esempio come faceva me la sono inventata ecco io non voglio fare il jukebox a gettone però ti ho davanti a tutti noi ti prego te la sei inventata come allora ebbi la fortuna incredibile che il mio provino quello con romolo siena io lo raccontai a gianni minoli che era un amico caro era andato a lui piangendo aiutami a lavorare fare le fotocopie ma stavo malissimo ma ho detto vabbè quando torni alla montagna vediamo perché ero proprio a pezzi nel frattempo mi capita sta avventura riesco ad avere la cassetta della mia mi dico ma sai giovanni mi è capitata una cosa porta voglio vedere che hai fatto voglio vedere lui divideva l'ufficio con arbore mentre guardava io stavo in un angolo così entra arbore si ferma chi è questa brava chi è io stavo l'impietrita lui fa un'amica mia simona io buongiorno c'è proprio terrorizzata ho detto dammi il tuo telefono che appena faccio una cosa importante ti chiamo si chiama talento signora marchini si chiama talento no sono grata a vita comunque lui insomma mi chiamò un mese prima praticamente trovai tutti gli altri che erano già preparati selezionati non ho ancora deciso e mi dice ho deciso e farei la telefonista e ho detto sì signora arbore è sposata con robbie una perla e siamo andati avanti un quarto d'ora ma figli signora simone sì due guardi due stelle no perché sono i figli miei massimiliano e cinzietta ma l'estate va sì andiamo al villaggio valtoro una pace perché è tutto recintato le creature giocano e poi le dico la verità la sera mi trucco ma giusto ma tutto il giorno colpare è una pace allora a un certo punto ma così e lui mi fa va bene no dico come va bene io sono andata così alla prima puntata eh lo so l'ho vista così proprio nel terrore più totale e la cosa straordinaria era che tutti giustamente avevano il tema la sera prima sì 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 scrivano i monologhi noi non provavamo mai niente no io non avevo il tema io ero questo personaggio un po' fuori e quindi avevo la storia familiare ma anche il gossip mi piacevano gli attori le attrici una sognatrice una piccola signora tenera sognatrice e anche una testimonia in diretta del grande egoismo del marito robbie però sempre con la tenerezza di chi comunque accoglie accoglie aggiusta anche in famiglia no e quindi me la sono inventata io ogni volta stavo sui carboni ardenti perché non sapevo mai quando Renzo ma tu sai di essere diventata di essere una donna imitata nel tuo stile nel modo di parlare di quella persona dicendo faccio ma mi sembri Simona Marchini cioè quando diventi un marchio imitato e non raggiunto vuol dire che hai creato qualcosa di ma ti dico la cosa più assurda mi è capito a caldo appena fatti quelli della notte mi arrivò questo per Gigi è un altro capolavoro della mia vita fantastico no una signora carina molto semplice un'impiegatina mi si avvicinò signora che le dispiace le amiche mie mi dicono che quando la imito le somiglio ma lei era la signora Simona avevi trovato allora attenzione Gigi Proietti, Enrica Bonaccorti Simona si occupa anche di arte oltre che lavorare con gli artisti ha ridato vita alla galleria d'arte La Nuova Pesa una galleria d'arte aperta dal papà torniamo sempre al papà nel lontano 1959 Simona tocca l'opera lirica e l'opera lirica diventa regia perfetta fa diventare appassionati di opera lirica pure quelli che di opera lirica non ci capiscono niente perché è passata lei e quando passa lei cresce l'erba bella e crescono le rose e so quello che dico Unicef, ambasciatore dell'Unicef da sempre dall'87 sì ma per da sempre intendo dire che sei entrata dentro questo ruolo e lo porti avanti con tutta la serietà del caso sì, assolutamente sei anche questo? lo sono profondamente sempre per quei principi fondamentali che mi hanno insegnato io anche lì io mi ero occupata dell'Unicef con le amiche coinvolte eccetera per alcuni anni finalmente mi invitano un giorno a questo congresso insomma nazionale io vado con tutte le amiche dell'Unicef ma tranquilla avevo fatto già tante cose e c'era allora il presidente Farina che era un uomo eccezionale e all'improvviso disse oggi c'è una sorpresa perché abbiamo un nuovo ambasciatore dell'Unicef io tranquilla Simona Marchini mi ha preso un colpo mio Dio sono andata sul palco veramente confusa, emozionatissima ho detto ma io non mi aspettavo tu non ti preoccupare tu sei una persona assolutamente all'altezza e io gli dissi molto umilmente ma io voglio un consiglio perché io non voglio fare un'ambasciatrice per vantarmi o per fare la fanatica in giro no io voglio servire questa causa e come devo fare? lui mi disse fai come Audrey Hepburn quando ti fotografano con i bambini o con chi ha bisogno guarda loro e non guardare l'obiettivo Simona Marchini quando la incontrate per strada abbracciatela perché se lo merita Simona Marchini grazie 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 a te grazie di essere stata vatti dare due bacioni grazie di essere stata all'ora solare grazie 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 a te ora qualora la notizia possa avere non so come dire possa risultare interessante io a 75 anni voglio essere esattamente come lei che si sta nascondendo nella poltrona cioè così si sta si sta rannicchiando questo piccolo grande eroe la signora Iole Severini volontaria della Croce Rossa Italiana decana della sezione di Roma cavaliere del lavoro per il suo lungo impegno di operaia in una fabbrica di arti grafica a Roma Iole detta da tutti nonna Iole adesso ho parlato io adesso deve parlare lei però perché mica posso farla da sola l'intervista ma no piccina ma non si deve ma non si deve commuovere se no che facciamo ci commuoviamo in due eh terra che lo sapevo io lo sapevo lo sapeva che cosa che cosa sapeva signora Iole aspetta un attimo e faccio una di quelle cose che non si devono fare in uno studio televisivo perché si arrabbieranno perché esco dalla luce però ecco cos'era cos'era che sapeva mi dia le manine cos'era che sapeva che si metteva a piagne come dicono a Roma eh sì però ho detto tutte cose vere sì perché la chiamano nonna Iole che sovecchia eh sì eccola ha recuperato tutto perché sovecchia non è vero non è vero allora lei da quanti anni è volontaria della Croce Rossa? tanti anni tanti anni e per chi ha deciso di fare la volontaria? ma io lo facevo prima della Croce Rossa con la mia 500 la caricavo piena di roba andavo nelle stazioni e regalavo la roba mi chiamavo una signora della 500 cioè lei già da prima sì quando i vigili mi dissero attenta che siete controvestrata con sta roba allora sono diventata della Croce Rossa e la macchina è diventata una Voducaro perché guardate che ha fatto tutto in grande Iole allora Iole lei lei ha preso la licenza media giusto? a 50 anni a 50 anni ho fatto 50 anni di entrare a scuola perché pur di prendere quella licenza lei si è messa a studiare da grande sì perché lei non molla mai dica la verità no allora eccola qua guardatela un po' e questa questa capacità di dire io lo facevo prima della Croce Rossa cioè lei ha messo nella sua vita la generosità nei confronti dei più deboli al primo posto sì e perché è così importante essere presente? perché ho sofferto tanto io sono nata nel tempo della guerra ho sofferto la fame la miseria tutto ciò che uno può pensare e quindi non voglio che altre persone soffrono come ho sofferto io ho lavorato io avevo 14 anni quando sono andata a lavorare mi dia le mani che qui facciamo e per non permettere a nessun altro di patire quello che lei ha patito lei è diventata ma lei è diventata proprio un angelo no eh no no e guardi quale notizie le abbiamo sono notizie sicure no assolutamente no 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 eh so io no e lei stiamo parlando di lei sì vabbè ma io non so no è diverso eh che com'è una persona umana non mi hai mai detto niente di questi tempi in tutti i tempi della storia una persona umana è quella che sa fare la rivoluzione insomma com'è il suo lavoro in Croce Rossa me lo racconti ehm la mattina vado al CEM Cosa è il CEM Centro Educazione Emotoria Centro Educazione Emotoria sì poi passo al magazzino generale no magazzino sociale no generale magazzino sociale dove mettiamo a posto tutta la roba che arriva le giacenze e preparo per la sera per partire andare l'unità di strada perché voi fate i turni di notte sì cioè quando noi stiamo comodi a casa a dormire voi uscite io vado per strada sì e che mondo trovate di notte? terribile persone che non hanno neanche il cartone neanche il cartone su per accoggiarsi per dormire ci sono delle persone che dormono un tempo a nicchiare col il chiusino sotto che manda aria calda io vado lì piano piano e metto la copertina sopra senza svegliarli perché magari in quel momento non riuscite a prendere sonno ma maggiormente si fa la sua primavera perché d'inverno si accantonano un po' tutti e chi gira la notte sa quali i punti dove si nascondono senta signora Iole c'è una c'è una donna che che si fa avvicinare soltanto da lei Giuliana Giuliana noi abbiamo un'immagine di questa Giuliana abbiamo una fotografia dove attraversa la strada con questa grossa plastica che si porta presso come se fosse una regina con lo strascico e invece non è una regina è una persona che ha tante difficoltà a lei la chiamano principessa a me Biancaneve senta che vuol dire che questa donna si fa avvicinare solo da lei qual è il problema di questa donna il problema di Giuliana è che non capisce molto bene la sua vita è sigarette caffè e birra e poi rompe tutto lascia sporco intorno a lei io da quando l'ho avvicinata ho cercato di fargli capire che va buttata nei secchioni la roba non va buttata per terra e poi ho cominciato a dire che bisognava lavarsi e ho detto vedi il tuo dittino è sporco prima il dittino la settimana dopo ho detto c'è ancora quel dito sporco proviamo io ho lavato una mano alla terza settimana ho fatto così a dico questa ma riconosciuto allora si sono avvicinati lei ha cominciato un po' a dare matto perché ci vede tutta sta gente io ho fatto finta che gli eravano addosso via fuori e quindi lei con me sola e sono riuscita il viso le orecchie con queste pezzettine la settimana dopo i maschi si sono allontanati due o tre femminucce l'abbiamo circondata con un lenzuolo l'ho spogliata da capo e piedi l'ho lavata e l'ho rivestita tutta i negozianti all'intorno quando passavano a parte che mi chiamavano Biancaneve mi chiamano Biancaneve ma erano tutti felici di questa cosa poi c'è un medico della Croce Rossa che è un medico e anche della Croce Rossa che c'è uno studio dentro una chiesa mi ha dato il permesso di lavarla là dentro quindi che faccio proprio la doccia calda è difficile proprio trovare il commento giusto perché sa signora Ioli il concetto è quello se fate se fate del bene soltanto a uno l'avete fatto all'umanità intera e questa donna che era inavvicinabile lei ha iniziato dal ditino piano piano cioè non è solo una questione di fiducia forse è stato anche quello che lei fa tutti i giorni cioè regalare restituire dignità è la restituzione della dignità la cosa che per prima conta di più sì la dignità quando io trovo una maglietta rotta sporca io non la metto dentro al pulmino la butto perché questa è anche dignità mi si dà la roba sporca ai miei amici è neanche rotta come l'ha detto bene signora come l'ha detto bene gli si dà la roba e no perché noi una cosa sporca o rotta non la vorremmo indossare no specie se siamo in difficoltà vorremmo ricevere quell'istante di cura io ritorno su questa immagine su questa fotografia perché sa perché le dico quando noi dormiamo perché è proprio uno stato diverso no cioè cala la notte noi chiudiamo le nostre case piccole o grandi che siano ricche o meno ricche che siano noi chiudiamo le nostre case siamo protetti e voi uscite a protezione degli altri anche diciamola tutta dei dimenticati perché se non ci foste voi invisibili invisibili invece lei è bella visibile questi capelli ma dicono grande donna grande donna guardi lo stanno dicendo non è che non è che stia stia forzando la mano e se come fa avere 75 anni lo sa solo lei è vero però l'abbiamo visto il documento diceva così per cui è tutto vero ma lei da grande che vuole fare? allora c'hanno ragione che a una certa età si diventa piccoletti no perché io me lo chiedo se è diplomata a 50 anni girava con la sua macchinetta riempiendola di ogni bene di Dio che non veniva da lei non è non fa non fa come dire la regina di professione quindi lei trovava tutto questo l'operaia eppure aveva questo afflato e poi è diventata croce rossa italiana allora l'idea grande che vuole fare? croce rossa italiana la croce rossa italiana come gli riesce bene scusi il tono romanesco ma come le riesce bene di fare la croce rossa è formidabile e a quei sai cosa penso a quei ragazzi che magari e ce ne sono tanti in croce rossa ragazzi grandi e un po' più grandi o giovani ma magari a quei ragazzi che non conoscono ancora il valore dell'aiuto nei confronti degli altri lei cosa si sente di dire? gli farebbe da maestra? sì mi seguono e che le dicono? nonna eh nonna e poi? posso dare questo nonna? eh se te l'ha chiesto va bene questo lo posso dare cercano di avvicinarsi cercare di capire quello che gli potrebbe fa bene o quello che gli potrebbe fa male perché tante volte dico per il tè domanda se è un zucchero perché potrebbe star male e lo zucchero non lo può prendere che hanno il diabete certo veramente hanno un po' di tutto pure lì e allora mi fanno nonna posso posso questo e gli ha domandato dopo prende e ogni volta è una lezione perché questo è il senso lei ogni volta fa da lezione facendo così noi abbiamo visto la foto davanti all'albero di Natale il Natale si passa per strada il Capodanno si passa per strada no quando è arrivata la mezzanotte è un attimo buon anno e via che si va siamo andati al bar siamo andati tutti al bar e martedì siamo riandati a quel bar le feste che mi hanno fatto ho fatto tanta adeguacacera che era pure lì Capodanno allora con la preghiera di ricordarvi quello che è successo a Giuliana che non si faceva toccare da nessuno e nessuno la voleva toccare perché diciamocelo fuori dai denti tanto noi dell'Ora Solare siamo amici era tanto sporca e la gente tanto sporca non la vuoi avvicinare però continua a essere sempre più sporca perché nessuno la avvicina nessuno la lava perché magari è autistica perché magari ha una reazione di chiusura perché magari chissà che male si porta addosso lei ci è riuscita lei ha 75 anni nonna Iole che ha una laurea nella vita che la rende il dottore più dottore laureato che abbia mai incontrato in vita mia grazie 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 ci vediamo tra un attimo grazie 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 queste sono le campane della chiesa parrocchia dei santi Pietro e Paolo di Pescassero lì siamo in provincia dell'Aquila voi direte beh c'è una chiesa c'è il campanile ci sono le campane no sono campane molto speciali perché don Andrea De Foglio buongiorno benvenuto grazie ben arrivato all'Ora Solare grazie ha preso questa iniziativa cento cento rintocchi per ogni bambino che nasce ed è bimbo di quella parrocchia e solo per questo noi la ringraziamo perché lei è un chiassosissimo parroco che ha deciso poi raccontiamo tutta la sua storia di fede di giovane parroco ma perché questa scelta di suonare le campane cento rintocchi per ogni bambino allora cominciamo da una cosa io non ho inventato niente ho ripreso una vecchia tradizione non a pesca a seroli in tante parti d'Italia si suona sì e allora ho iniziato l'anno quest'anno con funerali sì e c'è tradizione nel mio paese di suonare appena si sa che è morta una persona di suonare a morto a morto certo ho detto io bisogna cominciare a cambiare qualcosa qui bisogna cominciare a suonare anche a vita quello non è a morto dico io a vita eterna però qui bisogna suonare a vita certo e quindi perché non suonare anche quando nasce un bambino che è gioia è un po' come l'angelo che va a Bethlehem bravo annuncia bravo e annuncia ai pastori è nato il bambino e la campana quella quella funzione di annunciare la nasce di un bambino e però questa no attenzione ha detto nascono a vita eterna coloro che muoiono e guardate il fatto di suonare la campana per la morte di qualcuno ha ancora quel sapore di di coesione di comunità assolutamente se suona la campana a morto chi è venuto a mancare c'è la preoccupazione di tutti c'è la preghiera di tutti però a parte cento l'intocchi sono cento di questi giorni quindi come minimo cent'anni 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 partiamo da una base di cent'anni noi auguriamo cent'anni al nascituro al nato ma come l'hanno come hanno preso i suoi parrocchiani questa con molto entusiasmo molto bene devo dire che non mi aspettavo una risposta del genere anzi e invece c'è stato un entusiasmo grande posso dire che questa cosa ha unito il paese ma non avevamo dubbio cosa abbiamo fatto noi siamo andate dalla signora Nicla Filancia che avrà un bimbo ad aprile Annalisa Dallova mamma di Maria tre anni e di Erika di tre mesi e questo dicono del loro con molto orgoglio Dona Andrea vediamo Pescassero lì è una realtà piccola piccola realtà di quasi duemila anime e solitamente quando sentiamo le campane rintoccare ci chiediamo chi sei morto ma da poco tempo con la splendida iniziativa di Dona Andrea ci chiederemo anche chi è nato quindi quale migliore augurio per una nuova vita celebrare una nuova vita se non quello di cento rintocchi per augurare cento anni e in buona salute ciao a tutti io sono molto contenta dell'iniziativa di Dona Andrea per me è come un inno alla vita e questo è quello che ho pensato la prima volta che ho sentito le campane sapere che è nato un bambino mi riempie il cuore di gioia e penso che questo valga per tutta la comunità di Pescasseroli Dona Andrea ha avuto una bellissima idea credo che si voglia augurare a questo bambino una vita lunga e prospera quindi voglio ringraziarlo per questa bellissima iniziativa che ha avuto per Pescasseroli Dona Andrea vede questi erano solo due dei commenti adesso quante intanto quante prossime campane dovrà suonare perché più o meno dovrebbero essere una dozzina una dozzina da marzo in poi il pubblico rumoreggia nel senso da marzo in poi siamo pronti a suonare vogliamo suonarle solo a vita vogliamo suonarle a vita è bella io stavo per dire a festa invece lei mi dice a vita a vita che è un'altra cosa ancora a festa le suoniamo tutte le domeniche le suoniamo a vita e poi una piccola cosa sono le campane più piccole del campanile oh che carina proprio per sottolineare che è nato un piccolo un bambino le possiamo risentire dalla regia mi fate questa cortesia quindi no perché è bella questa perché se no c'è il campanone c'è il campanone grande sono le campane più grandi quella distesa mentre queste sono le piccole le campane bambine le più piccole le campane bambine le piccole che suonano sentite un po' risentiamo è vero sono argentine eh sì più o meno bene sapete a me era subito venuto in mente fatemi fare questa notazione interna all'ora solare abbiamo la nostra Laura Bernardini che porta in grembo il piccolo Umberto e noi tutte le mattine quando entriamo in redazione ci sentiamo molto zii e zii e allora ero subito partita a chiedere a Don Andrea ma si può suonare anche per bambini che non sono di pesca seroli non cominciamo con le richieste che qui se no chissà dove andiamo a finire però allora lei è parroco da cinque anni in questa parrocchia e ha riportato in vita visto che lei ha detto ci sono queste questa era già un'abitudine insomma già esisteva questo principio anche le infiorate e gli altarini diciamo che sotto la sua presenza le infiorate sono fiorite ancora di più è corretto dirlo? non lo so questo però c'è un bel lavoro dietro ma guardi che meraviglia fate un grande un grande lavoro che dura due giorni è una bella comunità questa è una comunità bellissima non perché sono il parroco di Pescassieri ma devo riconoscere questo che c'è una coesione c'è una sinergia c'è una voglia di fare tante cose insieme ogni iniziativa viene sposata guardate questa con Don Bosco che bella il Corpus Domini 2018 e quanto si lavora per fare tutto questo? si lavora praticamente due giorni questo si fa tutta la notte per tutto il paese c'è questo tappeto di fiori che poi servirà per la processione del Corpus Domini della mattina appunto della festa e tutta la notte si lavora ma già il giorno prima si va a cercare i fiori si va a prendere si va a fare i colori perché alcuni colori sono artificiali non sono dei fiori ecco questo è il tappeto che poi accompagna il Santissimo bellissimo e gli altarini gli altarini sono una prerogativa tutta nostra non è il classico altarino dove si appoggia il Santissimo durante la processione ma sono proprio rappresentati io do un tema ogni anno do un tema biblico a volte altre volte non so dipende anche se la chiesa cattolica è un tema qui è il lago di Tiberiade abbiamo riprodotto Don Andrea lei dà tanto di quel lavoro però ecco è tutto merito dei miei parrocchiani io do l'idea però lo fanno con entusiasmo poi rappresentano vedete i costumi rappresentano tutto così come è scritto nel Vangelo e questo a proposito di quelle campane dalle quali volentieri siamo partiti indica ancora una volta il concetto di coesione sì perché che bella che è questa chiesa anche vista una bazzia vista dall'alto bellissima bellissima coesione unione comunità il senso è questo sì che più che mai in un tempo i tempi sono sempre difficili però è importante averla in un tempo come quello che viviamo assolutamente io parto dal principio delle campane sì non mi spiegavo perché queste campane hanno fatto così notizia poi strada facendo mi sono reso conto di una cosa la campana è ciò che richiama ciò che chiama tutti in un tempo dove esiste il selfie dove facciamo tutti da soli dove c'è un monoteismo chiamiamolo così dell'io ci sono io e basta questo senso del noi dello stare insieme del vivere sta ascemando un po' si sta perdendo e quindi credo che non è tanto la campana che ha fatto notizia ma il fatto che questa campana richiama tutta una comunità e ci fa sentire una cosa sola e questo è il senso di una parrocchia il senso della chiesa non ho non ho altro da aggiungere don Andrea De Foglio senta don Andrea lei quanti 12 anni ha nel senso lei quanti anni ha 39 39 sembra ancora più piccolo grazie visto così la facevo di 24 anni per questo sono partita con quanti 12 anni ha perché volevo dire due volte eh due va bene e la sua intanto complimenti perché è un sacerdote giovanissimo che ci crede proprio ci crede sì questo è il momento in cui lei è stato ordinato sacerdote il signor Santoro mi ordinava questa questa decisione da dove è partita da dove è nata beh non è che c'ha una una data precisa da dove è partita io penso che nei disegni di Dio lui sa quando parte questa idea questa idea io ho fatto una vita normalissima nella mia vita da ragazzo in parrocchia per carità frequentavo la parrocchia catechista il coro io di Avezzano per cui partecipavo spesso alle parrocchie alle attività parrocchiali poi dopo diplomato mi sono diplomato in informatica quindi ho fatto scuole tecniche non classiche ho lavorato per quasi 4 anni in un'azienda multinazionale sempre nel ramo dell'informatica e in questi 4 anni diciamo è stata un po' la lotta su cosa voglio fare da grande e finché poi insomma piano piano ho cominciato a comprendere che la mia vita sì mi piaceva una famiglia vedevo i miei fratelli vedevo la mia famiglia contenta ho i nipoti con i figli che bello che bello però mi sembrava limitato ecco la mia famiglia guardi qua che squadra siamo 6 figli io sono l'ultimo tutti maschi però ebbene lì ho cominciato a capire che la famiglia è bella però voglio una famiglia mi permette il termine allargata lei voleva una famiglia più ampia molto più grande più grande dove potermi mettere a disposizione poi nella vita si sbaglia si fanno gli errori si fanno tante cose buone però poi ho detto vabbè provo voglio fare il prete te la dico in soldoni ovviamente no no ma lei parla in soldoni e quindi parla bene voglio fare il prete almeno ci voglio provare poi feci un'esperienza al cottolengo di Torino e lì sono entrato in un reparto che era quello dei malati terminali dove ho visto gente entrare con le proprie gambe e uscire non viva e quindi lì quell'esperienza di 15 giorni dove si lavorava dalla mattina alla sera senza fermarsi un attimo se no quella mezz'ora del pranzo mi ha segnato ho detto io non voglio fare nell'infermiere nel medico io voglio lavorare per le anime per qualcosa di più e quindi feci questa scelta di entrare in seminario ho detto almeno ci provo se poi non è ci ho provato eccomi qua sa cosa credo che i suoi parrocchiani a Pescassero gli siano molto fortunati ad avere un prete come lei ad avere un padre parroco come lei sono molto fortunati perché lei ha lei ha citato il Cottolengo padre che è un luogo dove io credo molti dovrebbero passare 15 giorni perché ma io credo che anche un giorno ti segna lì anche un'ora padre sì anche un'ora che lì capisci quello che è fuori da lì non hai ancora capito sì sì allora il papà e la mamma oltre alla guardate la fierezza della mamma in questa foto ci credo ha messo su una squadra di calcetto più riserva biancaneve e sette nani come con mio padre erano solo insette biancaneve e sette nani è bellissimo papà e mamma come hanno preso la notizia papà e mamma mi faccio prete eh eh dunque io mi aspettavo che mio padre mi dicesse la paternale e invece fu il contrario mio padre mi fece una domanda dice l'hai fatto il militare io con tutti i fratelli maschi sono stato congedato subito ho detto no papà non l'ho fatto il militare beh allora vai a fare il soldato a Cristo mio padre applausone grande papà la mamma mia madre mia madre è stata un po' più restia questa scelta perché lavoravo la sua paura era che io poi uscivo dal seminario e il lavoro non c'era più e che farai? per un quasi un mese non mi ha parlato mi dava da mangiare però eh mi sbatteva il piatto davanti ma me lo dava però adesso penso che sia la donna più fiera oh penso proprio di sì come si chiama la mamma? Fernanda Nanda per tutti Nanda per tutti allora salutando ovviamente il signor De Foglio il papà che ha detto Federico Federico che è andato a fare vai a fare il soldato signora Nanda quanto glielo invidiamo noi questo figlio ma quanto glielo invidiamo noi può essere ben lieta e ben felice grazie a donna Andrea De Foglio per essere stato allora solare cento rintocchi di campana per ogni bambino suonare a vita e allora tutti qua perché vede noi non abbiamo le cento campane però i cento rintocchi di campana però siamo decisamente rumorosi nel finale e quindi andiamo venite venite signore andiamo ad abbracciare i nostri ospiti ricordando che c'è la recita della coroncina della divina misericordia e c'è dopo siamo noi e domani alle 14 c'è l'ora solare grazie a tutti ci vediamo domani Laura che non vuole venire qui Umberto quando arriva cento tocchi di campana cento grazie padre grazie grazie a tutti